Stiamo da qua, mi aggiungi questa e fai mezzo passo avanti, io faccio pak chun, ok? Da psao vado a colpire, quando vado a colpire ti tieni su questa, ok? Io vado a colpire, stira su, più un po' da psao, pombo, un, due. Vado, passo da dentro, rosso. Io mi faccio un tappo, un po' un po' e tre, ok? Una domenica adesso non puoi tirare, non puoi tirare. Ok? Passo, passo. Ok? Faccio un po' un po' in su, un po' e tre, Ho spinto un po' in su, viv Questa piano Questa piano Questa Questa piano Ok